Bentornati di Fatto 2015, siamo allo Stenza iSense come potete vedere e quello che abbiamo davanti è il nuovo Magic Mirror è un prodotto che non è ancora in commercio in Europa e si caratterizza essenzialmente per questa cornice dello schermo davvero ridotta uno schermo da 8,4 pollici, soluzione retina, uno schermo IPS 2560x1006 un dato interessante è il fatto che oltre a questa cornice molto sottile anche lo spessore del prodotto è estremamente ridotto leggermente rastremato, talmente tanto sottile che non è stato possibile trovare posto per il jack audio quindi l'unico modo per ascoltare l'audio è tramite gli altomarlanti integrati oppure tramite una cuffia Bluetooth per il resto monta Android 5.0 una batteria da 4500 mAh potete vederlo qui sulla scheda tecnica un'altra peculiarità è il chipset montato Rockchip RK3288 quad core 1.8 GHz dovrebbe mostrare delle prestazioni adeguate non parliamo di un prodotto potentissimo ma comunque dovrebbe garantire delle prestazioni adeguate all'utilizzo di tutti i giorni 2 GB di RAM, storage da 16 o da 32 non ci sembra ci siano porte per le espansioni quindi bisogna limitarsi a quello che c'è a bordo poi c'è un tasto qui nascosto il tasto home per il resto c'è un'interfaccia personalizzata montata su Android 5.0 non c'è ancora in Europa arriverà il prossimo anno vedremo quale sarà il prezzo finale allora è tutto ci rivediamo su trefino.it grazie 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 grazie